Con la bugia di una storia scritta male, noi confondiamo la teoria della questione meridionale. Noi per ricordare che sono 150 anni, che il sud va per il mondo insieme a tutti i suoi emigranti. Noi con la cazzone dei briganti che la storia ha fatto fuori. Ma se questa musica va avanti, è perché i briganti siamo noi. Noi con la cazzone dei briganti che la storia ha fatto fuori. Ma se questa musica va avanti, è perché i briganti siamo noi. Ma se questa... ...inventata in quel 1800, 64. Il peggiore di tutti era della Basilicata, si chiamava Nicola Summa, ma il suo nome di battaglia, che sta diventando famoso, era ed è Minco Danco. Grazie a tutti. 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 Grazie.